Della Rai si parla spesso male, talvolta ragione talvolta torto, almeno questa serata invece è lì a dimostrare che vale la pena di parlarne anche bene, credo che in questo caso perlomeno abbia dimostrato un certo coraggio perché produrre un film sulla classe operaia, sulla fabbrica, su quello che ha rappresentato nella società italiana dal dopoguerra ad oggi la fabbrica con le sue trasformazioni, il lavoro operaio con le sue trasformazioni, nel momento in cui di classe operaia non si parla più e la classe operaia è diventata invisibile come tutti in questi ultimi tempi hanno avuto modo di ricordare e sottolineare, bene, ripeto, in qualche modo è un atto di coraggio di cui mi ha dato merito alla Rai, allora è giusto che sia il direttore della Rai che è del Capone a chiudere questa introdizione. Grazie, innanzitutto anch'io desidero ringraziare tutte le autorità presenti e tutti voi che siete venuti così numerosi ad accogliere questo nostro invito, è un invito che abbiamo fatto molto volentieri per la qualità del film realizzato da Francesco Rubincini ma anche per il significato che questo progetto ha per la Rai e questa serata in effetti, diceva Barbera prima, è, consentitemi anche un po', una serata di un pizzico di orgoglio della Rai e dei suoi lavoratori, di questa azienda che appunto stesso maltrattata, attaccata, criticata, come anche legittimo che sia, ma molte volte credo anche da chi non ne conosce a fondo il pieno e vero valore. Credo che questa produzione, questo progetto rappresenti molto bene quello che la Rai sa e può fare quando ricerca la qualità e la ricerca con passione e attenzione, quando ricerca l'attenzione al sociale e soprattutto quando si rimette in un progetto di rappresentare la realtà. Credo che la rappresentazione della realtà sia qualcosa che oggi manca un po' nel panorama della comunicazione di questo paese e noi speriamo che questo piccolo progetto sia anche un inizio di attenzione ai temi della realtà. E quindi ringraziarvi ancora, vorrei, vi annuncio che questo film andrà nei prossimi giorni su Rai 3 e poi consentitemi, voglio ringraziare due persone, credo che sia doveroso e per queste persone voglio ringraziare le strutture Rai che hanno lavorato, cioè Rai Tech e Rai Cinema, le persone sono Barbara Scaramucci e Cecilia Valmarana che con intelligenza, passione e impegno hanno consentito che questo progetto si realizzasse. Quindi grazie a tutti e buona visione. Grazie. Grazie.